Cipollini, in pochi minuti vogliamo spiegare la genesi di questo supermercato, di questo centro commerciale e cosa accade da questo pomeriggio? Oggi si conclude un percorso che è iniziato un anno fa, quando Oshan ha lasciato l'Italia, la società è stata in qualche modo acquisita dal gruppo Conad. Conad sta facendo dei passaggi per far transitare i negozi o nella propria rete o presso dei partner, in questo caso i due ipermercati, quello di Pescara Aeroporto e quello di Cepagatti, passano alla società Maiora che lavora con un marchio che è quello d'Espar. Le metrature si riducono in maniera importante e c'è una riduzione anche del personale, tutti i lavoratori hanno diritto intanto a subentrare nel nuovo gestore e poi discutere di quelle che sono eventuali persone in più, esuberi, gestire con ammortizzatori sociali eccetera eccetera. Invece Maiora ha deciso di prendere soltanto le persone che ritiene essere necessarie, quindi oggi che c'è il momento in cui si abbassa la serranda, in questo momento si sta abbassando per l'ultimo giorno e per l'ultima volta la serranda di Oshan, si stanno nello stesso momento comunicando ai lavoratori chi sta dentro e chi sta fuori, esattamente come in un talent show in cui ti dicono per noi è un sì e per noi è un no e questa cosa non è giusta perché la scelta viene fatta in maniera discriminatoria dalle aziende e quindi noi le stiamo contestando e continueremo a contestare. Le motivazioni per cui sono stata licenziata, perché è inutile che parliamo di esuberi, non le conosco, sono un part time a 19 ore e quindi loro hanno fatto una cernita, in base a quali criteri non li sappiamo, non li conosciamo e io sono una delle 30. Non abbiamo una logica per cui siamo stati scelti alcune persone e altre no, la mia stessa situazione è che non ho mutui, non ho figli a carico, ce l'abbiamo in tante perché lei sì e io no. Semplicemente una domanda, avere un chiarimento, una risposta, questo è quello che chiedevamo all'azienda. Abbiamo svolto il nostro lavoro sempre in maniera positiva, non abbiamo mai ricevuto lettere di richiamo, contestazioni. Stamattina ho ricevuto la telefonata, stai fuori, la mia telefonata è stata Angela stai fuori da Maiora, questo dopo 22 anni, basta.